Questa mattina nella sala della giunta del comune di Marotta Mondolfo il comitato antibarriere ha messo nelle mani del sindaco Nicola Barbieri il plico con 6.000 firme di cittadini che non vogliono che lo scempio paesaggistico urbanistico delle barriere antirumore che rete ferroviaria italiana vorrebbe installare lungo la direttrice adriatica che attraversa Marotta si compia. Noi non siamo contro l'abbassamento del rumore sia ben chiaro questo hanno affermato questa mattina con toni accalorati e decisi i 13 componenti del comitato. Noi ci opponiamo a questa soluzione per abbattere l'inquilamento acustico una soluzione già obsoleta prima ancora di essere realizzata concepita oltre 15 anni fa e concettualmente sbagliata con soluzioni non assolutamente alla guanguardia cosa che invece è adottata nel resto d'Europa tipo in Svizzera dove non si sognano nemmeno di deturpare per sempre il paesaggio con barriere alte 8 metri dal livello ferroviario. È probabilmente 20 anni di vecchiaia. Sì noi abbiamo letto naturalmente il progetto nei minimi particolari ma siamo andati poi a consultare cosa fanno i paesi esteri prendendo in considerazione anche pubblicazioni ufficiali. C'è pubblicazioni per esempio il Parlamento europeo che dicono che il futuro dei treni è quello dei treni silenziosi non delle barriere. In alcuni punti di Marotta ci dicono dal livello strada la barriera arriverebbe a oltrepassare i 9 metri di altezza ma ve lo immaginate che tipo di devastazione urbanistica sarebbe una cosa simile ma la cosa ancora più scioccante però sottolinea il sindaco che ha definito questa opera mastodontica senza mezzi termini un progetto assurdo è il tempo di realizzazione ovvero secondo appunto quanto riportato nel testo del progetto ben 72 mesi ossia 5 anni dove Marotta diventerebbe un cantiere a cielo aperto invasa da decine e decine di camion pesanti che trasporterebbero tutto il materiale necessario dai due campi base allestiti a nord e a sud della direttrice adriatica. Questo dice il sindaco starebbe a significare l'azzeramento totale del turismo per cinque anni ed il fuggifugge generale di tutti i vacanzieri da Marotta con ricadute e dalle conseguenze disastrose per l'economia del territorio con decine e decine di attività economiche sull'astrico. Credo che le amministrazioni comunali devono assolutamente difendere questa situazione e devono dire un no chiaro a questo tipo di progetto. La legge deve essere cambiata tra l'altro la legge del 2000 dice di intervenire prima di tutto sui binari quindi sulla sorgente del rumore quindi non alzando subito queste barriere di 8 metri quindi anche la legge non viene rispettata in questo modo però è una legge vecchia del 2000 e quindi anche il ministero deve adeguarla con i tempi che le nuove tecnologie perché in Europa in tutti gli altri paesi europei ci sono altre tecnologie utilizzano altri modi per abbattere il rumore.